Piccoli campioni di sci crescono anche in Campania dove per tradizione si pensa più che altro agli sport che hanno a che fare con l'acqua o ai campi di calcio che non alle piste innevate. Certo qualche bella montagna ce l'abbiamo anche noi ma da qui a trovare un campioncino in erba per il futuro ce ne passa. Eppure la nuova edizione del trofeo Bebe che si è tenuto a Roccaraso ha dimostrato, grazie all'ottimo lavoro dello sci club Vesuvio, che è possibile far avvicinare i bambini allo sci. Si sono svolte due gare di slalom gigante e si sono aperte le porte anche a bambini piccolissimi alle prime armi. Una coppa poi non si nega a nessuno e quindi tra i premiati tanti ragazzini che non vedono l'ora di ripetere l'esperienza con l'organizzazione dell'azienda Bebe Gioielli. È una festa dello sport dedicata ai bambini ma alle famiglie, alle mamme con una partecipazione veramente grandiosa. Quest'anno il tempo ci ha dato una mano nonostante le previsioni sfavorevoli ed è uscita una giornata fantastica. Mi sembra che ci siano anche dei tempi interessanti, stiamo vedendo i futuri campioni su questa pista di Roccaraso. Sì, sono bimbi piccoli di 8-10 anni ma già con una grinta e con un agonismo fuori dal comune perché sono bimbi che si preparano tanto per queste gare. Ci sono dei piccoli campioni che crescono? Ma speriamo, il percorso era adeguato, la pista ha retto per tutti i concorrenti dal primo all'ultimo molto bene. Quindi sì, speriamo che ci sia dei piccoli campioni che crescono e che ci daranno grandi soddisfazioni. Beh, questa pista è adatta a questa categoria, a Bebe, Cuccioli, abbassando la partenza anche ai Super Bebe e ai Topolini. E quindi, grado di difficoltà, buono, comunque è una bella pista impegnativa dove c'è comunque da sciare. Il movimento cresce e che fermento c'entrano allo sci? C'è un grosso movimento di piccoli, purtroppo quando poi crescono un po' si perdono un po' per le distrazioni, un po' perché spesso vengono troppo gasati quando sono piccoli e quindi viene a male. Noi invece cerchiamo di farli crescere un po' in un sano agonismo non esasperato. Da che età si deve iniziare? Ma già da tre anni e mezzo possono andare sugli sci, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.